Sabato 14 marzo, Santa Matilde di Ringelheim. È il 73esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 292 al termine. Il sole sorge alle 6 e 27 e tramonta alle 18 e 18. La luna leva alle 1 e 57 e tramonta alle 11 e 37. Nicolò d'Este, marchese di Ferrara, conclude un trattato di pace con Venezia. Promette di pagare 100.000 ducati, quale compenso per le spese di guerra, e cede il Polesine di Rovigo con tutte le sue fortezze. Si impegna altresì a smantellare ogni fortificazione sul Po, da Ferrara sino al mare. Al foyer del Sant'Artemio di Treviso, fino al 29 marzo, fotografie del patrimonio iconografico del centro di documentazione storica sulla Grande Guerra di San Polo di Piave. La mostra è aperta a tutti i giorni. Ingresso libero. Le previsioni per domani. Nuvolosità in intensificazione con qualche possibile temporanea schiarita al mattino, probabili deboli precipitazioni dal pomeriggio, quota neve attorno ai 1000-1200 metri circa. Temperature minime in lieve aumento, massime senza variazioni di rilevo. Grazie a tutti.